... Bravo! 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 Adesso qua il gol! Adesso qua! Adesso! Campioni del mondo! 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 Campioni! Bravi! Bravi! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Campioni del mondo! Ehi, campioni, campioni! Ehi, campioni! Ehi, campioni! Bucci, campioni! Ehi, campioni! Ehi, campioni! Ehi, campioni! Puglia, 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 Puglia... C'è me, è pronto soccorso... Dai così lassi! Forza Roma! ah io a cambia prima, non avevo pazienza ragazzi, 8, 8, 8, 8, 8 è va bene, siamo 2 a 0 possiamo permettersi è fissa che abbiamo visto, e le manda a mangiare che abbiamo visto, e le manda a mangiare a mangiare a mangiare a mangiare semmo intossicare semmo intossicare 8, 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 16 17